a casa, ma durante le prove di routine si sono imbattuti in uno strano oggetto non identificato, un UFO, ma che ha addirittura urtato lo scafo della navetta. Vediamo di che si tratta, nel servizio di Perardo Davini. Ma cos'è questo oggetto sconosciuto dai bagliori metallici che carambola dolcemente nel vuoto siderale? Se lo sono chiesto gli astronauti dello Shuttle Discovery, incuriositi dall'inattesa apparizione, e se lo chiede anche la NASA, che tra immagini e dati, cerca di trovare una risposta convincente. Il fatto manda comunque infibrillazione in media di mezzo mondo, e già c'è che si interroga se proprio oggi, un venerdì 13 qualsiasi, sia finalmente arrivata la svolta epocale per l'umanità, e l'America per prima si è riuscita ad ottenere il tanto atteso contatto con gli alieni. La realtà è quasi certamente meno immaginifica. Dopo aver completato una prova di routine ai motori per il rientro previsto domani, l'equipaggio del Discovery ha riferito di avere visto volare via, vicino alla parete posteriore dell'ala destra, un oggetto non identificato, una sagoma rettangolare 30 cm per 45, e subito all'interno della navetta è echeggiato un colpo proveniente dalla parte sinistra del timone. È solo un pezzo di ghiaccio per alcuni esperti che ricordano episodi simili ad ogni missione. Era il lontano 1984, ad esempio, quando proprio il Discovery filmò una misteriosa sfera di metallo volante. L'equipaggio continua intanto a stivare le attrezzature della cabina in attesa dell'atterraggio previsto per domani al Kennedy Space Center. Prima l'emergenza Tualet, adesso l'improbabile UFO. Sono ormai le contingenze di questo tipo a fare pubblicità alle missioni degli shuttle con la loro vecchia linea in ritardo sulle aspettative immaginarie del terzo millennio.